Buongiorno. Il Vangelo di Luca, capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 5, ci propone oggi la scena suggestiva di Gesù che attraversa i campi di grano della Galilea insieme ai suoi discepoli. Essi, camminando, prendono le spighe di grano e le mangiano perché hanno fame. Ma questo scandalizza i farisei perché è giorno di sabato e nel giorno di sabato sono proibiti tanti lavori e tante attività, tra cui questa. Il sabato è il centro della legge di Israele perché è il giorno del riposo del Dio creatore, è il giorno della liberazione, è il giorno in cui anche il Signore si ferma e dunque anche l'uomo deve fermarsi. Ma i farisei di questa legge ne hanno fatto un idolo perché in realtà il senso del riposo del sabato è quello di restituire a Dio il proprio posto e all'uomo la propria dignità. Ha senso fermarsi nel giorno di sabato, che per noi cristiani è la domenica del Signore risorto, perché questo permette a ciascuno di riscoprire la propria bellezza, la propria dignità dei figli, la propria realtà di creature spirituali. È importante allora con Gesù riconoscere al sabato di cui Egli è il Signore, la domenica cristiana, il ruolo che gli spetta nel ritmo della vita. Abbiamo trasformato la domenica nella nostra società in un tempo di frenesia e di corse. Abbiamo giustificato attività e mestieri che nulla hanno a che fare con il lavoro degli spigolatori delle spighe di grano. Le spighe sono il nutrimento dei poveri, dunque riposare significa ridare equità e giustizia a coloro che non ce l'hanno. Il pane che Davide ha mangiato nel giorno di sabato è frutto del lavoro dell'uomo e del dono gratuito di Dio e dunque ricorda come il riposo della domenica e la gratificazione che consegniamo a Dio e a ciascuno di noi per una collaborazione profonda tra l'uomo e il Signore. È importante riscoprire la domenica come il momento in cui ci si ferma, personalmente, in famiglia, tra amici, e si riscopre che l'uomo ha bisogno di nutrirsi, ma non soltanto di spighe o di pane, soprattutto nello spirito. E l'uomo ha bisogno di fraternità, non di giudizio, di oppressione, e l'uomo ha bisogno di impegnarsi per la solidarietà. È importante che la domenica cristiana torni ad essere un momento che scandisce il ritmo di una vita più autenticamente umana, alla misura di come Dio l'ha voluta, e che possiamo così collaborare affinché torni il giardino della creazione ad avere la propria e la nostra dignità. Buona giornata.